scusami dove vedo le persone che entrano? sotto partecipanti sì 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 mi è chiaro ho trovato benvenuti a voi che state pian piano entrando in questo ottavo webinar abbiamo ancora un paio di minuti a tutti in modo tale che si possano unire noi e poi incominciamo grazie a tutti grazie a tutti io spero che la mia linea tenga perché ultimamente Milano è bombardata di bombe d'acqua e anche oggi fuori c'è il temporale speriamo che mi tenga la linea wifi e che non salti di nuovo la corrente spero quindi di poter non avere problemi direi di cominciare buongiorno a tutti sono Simona Barbaglia sono il presidente dell'associazione nazionale pazienti respiriamo insieme che insieme alla federazione uniamo la federazione che si occupa di delle patologie rare ha proposto questo progetto che si chiama riuniamoci che nella prima parte vede una serie di incontri webinar e questo è il nostro ottavo incontro per formare informare tutte le persone affette da una patologia rara del polmone come come l'ipf per esempio ma molte altre patologie che danno una grave compromissione nell'apparato respiratorio in modo tale da dare informazioni che consentano di migliorare la gestione quotidiana della malattia come detto oggi siamo al nostro ottavo webinar e in questo nostro tardo pomeriggio la nostra relatrice di oggi a cui diamo il benvenuto è la dottoressa Francesca Pugioni pneumologa e coordinatrice dell'immunocenter dell'IRCCS Humanitas Hospital University di Rossano che avrà largo e difficilissimo compito di farci entrare sempre più nella digital medicine cioè tutta quella, tutti quei dispositivi, tutta quella tecnologia che ci può consentire appunto una migliore gestione della malattia quindi diamo il nostro benvenuto alla dottoressa Pugioni e lasciamo che la dottoressa Pugioni faccia la sua relazione alla fine della relazione potremo fare le domande rispetto alla diciamo così ai quesiti, ai dubbi, alle domande che ci sono venute dopo durante la sua relazione ecco, grazie, grazie, grazie a Respiriamo Insieme, grazie a Uniamo e grazie in particolare a Presidente Verbaglia è sempre un piacere essere qui e spero di riuscire a comunicarvi la passione e comunque anche la semplicità che deve esserci in questo argomento perché potrebbe essere un postico quindi assolutamente via libera alle domande condividiamo subito lo schermo e partiamo perché il titolo era particolare, era dedicato proprio a quella che è la ditemi se vedete o se ci sono problematiche vediamo, lo vediamo ancora non in presentazione ecco, adesso è anche in presentazione perfetto quindi questo l'argomento sarà quello proprio del telemonitoring cioè degli strumenti di controllo a domicilio che possono essere utilizzati dal medico, dal paziente e dal cittadino utilizzando strumenti digitali quello che, scusate ma vediamo sì allora, essenzialmente questa tecnologia è applicata alle malattie croniche questo è il piano del 2024 e come vedete i numeri stanno incrementando incrementando anche in rosso come vedete qui le patologie croniche che si sovrappongono una all'altra quindi almeno tre ma di cui almeno una grave come è il caso di tante patologie respiratorie quindi sicuramente abbiamo bisogno di strumenti che riescano a snellire un po' il sistema sanitario nazionale e il digitale si applica molto a questo il concetto principale che deve essere tenuto in mente bene sia dal medico che dal paziente che dal cittadino ma soprattutto dal medico devo dire è che la tecnologia digitale abilita il cambiamento ma non deve essere l'obiettivo del cambiamento non dobbiamo mettere tecnologia laddove non è necessario o nel paziente che non è propenso a utilizzare questi mezzi o per patologie che non si possono controllare attraverso la digital medicine il rischio qual è? che senza un quadro chiaro per differenziare i vari prodotti digitali efficaci corriamo il rischio di cadere nell'opportunismo commerciale in cui le aziende stesse che magari facilitano le start up i clinici politici e i cittadini non avranno un livello di qualità adeguato alle patologie e allo stato di salute della nazione in particolare poi per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli interventi sanitari in generale quindi dobbiamo riuscire a produrre degli interventi di salute che abbiano dimostrato esattamente come un farmaco attraverso i trial clinici di funzionare dove dobbiamo arrivare? dipende un po' da noi in questa sessione ci concentreremo su quelli che sono i dispositivi di autogestione della salute il supporto all'utilizzo della terapia farmacologica che viene prescritta essenzialmente il monitoraggio da remoto ma anche l'automonitoraggio digitale cambia lo scenario e non per niente ho messo il vostro logo perché nello scenario tradizionale analogico c'era un po' una somministrazione di salute anche forse dovuta a delle generazioni di medici e pazienti che adesso non ci sono più in cui la salute veniva somministrata dall'alto e il paziente riceveva questi consigli queste prescrizioni in modo passivo l'evoluzione digitale invece grazie alle tecnologie ma anche all'informazione che è più accessibile mette la persona, il cittadino e il paziente al centro nel senso che lo sta facendo diventare attore protagonista quindi la salute diventa un bene da tutelare insieme, promuovere insieme a livello di popolazione non solo di pazienti ma in cui la persona ha un approccio più attivo e partecipativo essenzialmente dobbiamo iniziare a riconoscere ad esempio i titoli la spesa per la sanità digitale cresce enormemente, ogni anno vediamo questo titolo con diverse percentuali ma questo non sempre ha una ricaduta diretta sulla salute del cittadino perché spesso tutti questi soldi vengono spesi in apparecchi medicali banalmente le nuove TAC del torace che hanno comunque componenti digitali rientrano in queste statistiche oppure gestionali degli ospedali per l'acquisto di farmaci nelle farmacie cyber security, il fascicolo sanitario elettronico quindi non abbiamo sempre una ricaduta sulla salute quando poi andiamo a vedere come la spesa digitale incide ad esempio nella telemedicina si vede che l'8% dei pazienti in cura in Italia ha utilizzato questo tipo di strumento e solo l'11 pazienti il telemonitoraggio se pensate che nelle patologie cardiologiche ad esempio tutti i pazienti con pacemaker hanno questo tipo di telemonitoraggio possiamo ragionevolmente pensare che la cardiologia prende gran parte di questa cifra e quindi a livello respiratorio ad esempio i pazienti che ne fruiscono sono molto pochi poi vedremo anche perché uno dei principali ostacoli, questo riconosciuto a livello internazionale è la competenza del cittadino e badate bene, parlo di cittadino e non sempre di paziente perché c'è il caregiver o comunque la persona che vuol fare prevenzione ed essenzialmente sono quattro i pilastri che ci mancano in generale non parlo dell'Italia, parlo dell'Europa in generale e del mondo questo è un male comune che non è solo italiano dobbiamo sviluppare una digital literacy cioè le competenze tecniche relative a capire come funzionano gli strumenti digitali banalmente i social network, la mail piuttosto che uno spirometro digitale alcune soft skill sul digital quindi le capacità necessarie per imparare a comunicare e condividere informazioni efficacemente attraverso i canali digitali parlare a un congresso non è come parlare ad esempio a un webinar adesso comunicare via mail o attraverso una piattaforma digitale di telemedicina non è come parlare direttamente a un paziente o riferire da parte del paziente determinati sintomi al medico può essere più difficile la health literacy cioè la capacità di ricercare, elaborare, capire, comprendere tutte le informazioni che noi otteniamo dal web che sono tantissime si parla di infodemia cioè questa aggressione di centinaia di migliaia di informazioni che ogni giorno ci arrivano e alla fine conosciamo tante informazioni abbiamo tante informazioni ma non sappiamo niente in realtà e poi la health skill che sono le competenze per utilizzare in modo autonomo, consapevole le tecnologie digitali che dobbiamo usare nella gestione della vita personale in questo ci aiuta molto questo documento documento condiviso a livello internazionale che è la Guidance to Industry che classifica tutte le tecnologie digitali ed essenzialmente ci sono otto categorie nel quale classificare le migliaia e migliaia di tecnologie digitali per la salute che stanno nascendo in base essenzialmente alla loro funzione primaria a chi ne deve usufruire e ad altre caratteristiche noi oggi ci concentreremo su quelle che riguardano il patient facing cioè quelle che vengono utilizzate dal paziente quelle che interfacciano il paziente con la realtà sanitaria che può essere l'ospedale, l'infermiere o il sistema sanitario nazionale in generale ed essenzialmente dobbiamo imparare a distinguere fin da subito che sia perché lo vediamo su Instagram piuttosto che sul web piuttosto che consigliato da un amico quelle che sono applicazioni di benessere e salute del consumatore il corso di Pilates, il consiglio alimentare non sempre sono negativi ma non riguardano la salute e questo ha dei risvolti che adesso vedremo molto importanti poi ci sono i dispositivi per il monitoraggio digitale di specifici parametri dei pazienti supporti digitali alle cure per l'autogestione della malattia da parte del paziente non ho lo strumento formativo inteso come laurea e specializzazione ma attraverso questi supporti digitali vengo guidato e vengo messo nelle condizioni di poter controllare in autonomia la mia salute e questo è quello che viene chiamato in inglese empowerment in italiano consapevolezza della malattia ma è il punto dove dobbiamo arrivare nel momento in cui il sistema sanitario nazionale può essere latente la digital medicine ci aiuta in questo modo e questi dispositivi dovranno avere se non l'hanno già tutto quando diventano dispositivi medici delle specifiche indicazioni nell'etichetta per l'uso previsto al prodotto i benefici che vengono dichiarati quello che il prodotto può fare e non può fare qual è l'intervento erogato quindi la modalità che deve corrispondere a quanto dichiarato dal produttore i requisiti di prova cioè questo apparecchio è stato sottoposto ha dei test scientifici i risultati che ci dà sono riproducibili banalmente pensata a un saturimetro che viene immesso in commercio ma che non ha una riproducibilità del risultato e quindi un giorno ci darà 80 un giorno ci darà 95 potrebbe avere delle conseguenze drammatiche sulla nostra salute e sulla nostra vita e poi delle implicazioni regolatorie perché nel momento in cui questo apparecchio digitale comunica magari attraverso il mio cellulare e con altre piattaforme altri cellulari e altri database ovviamente ci sono delle normative banalmente la privacy che devono essere rispettate perché vi dicevo è molto importante comprendere se stiamo parlando di un device medico o di un app piuttosto che di un device che riguarda semplicemente il benessere perché come vedete qua nel momento in cui abbiamo queste app di wellness non è richiesta alcuna prova di efficacia né di sicurezza né ci sarà l'etichetta che ci dice a che cosa serve come utilizzarlo o altro ma non sono fuori legge non è richiesto dalla legge e quindi da quel tipo di strumenti digitali non possiamo aspettarci la riproducibilità la specificità la sensibilità e non possiamo affidare la nostra salute a questo tipo di strumenti digitali dobbiamo andare in quelli che invece come vedete qui hanno delle garanzie di supporto scientifico di sicurezza di marchi OCE ad esempio che ci permettono di fare affidamento su questi strumenti e le qualità di prove cliniche per quanto riguarda il patient monitoring sono queste cioè fornisce dei dati biometrici che devono essere riproducibili sicuri da usare nel processo decisionale clinico ma non tra le conclusioni quindi non ci dà la diagnosi per questo che possono essere utilizzate anche dal paziente o dal portatore di qualunque tipo di disturbo della salute perché aiutano ma non arrivano alla diagnosi quindi non c'è magari dietro un chatbot con l'intelligenza artificiale la diagnosi è sempre affidata alla guida del medico la validazione è fondamentale c'è un processo di decisionale clinico cioè è capace di rilevare questi parametri in che modo lo fa quando lo fa lo fa come vogliamo noi e permette una raccolta continua che è fondamentale alla revisione del medico e del paziente stesso per vedere come va la malattia perché al di là della diagnosi poi il controllo della malattia è quello che noi osserviamo nel tempo nella sanità digitale sicuramente la piattaforma di telemedicina è l'esempio più ricorrente più conosciuto anche nella diciamo dall'opinione pubblica la televisita però limitata videoconferenza chat e scambio di documenti è la modalità più comunemente descritta utile nel periodo del covid sicuramente però non possiamo pensare di sviluppare una telemedicina che diventa poi una chiamata zoom che è semplicemente poco più di una chiamata whatsapp è fondamentale il telemonitoraggio quindi l'acquisizione da remoto dei dati del paziente secondo diverse modalità operative che possono essere sensori test questionari ma questo è ancora molto limitato ed è molto limitato essenzialmente per la mancanza di dispositivi certificati e anche per le criticità logistiche ed economiche gestite vi faccio due esempi se anche fosse registrato uno spirometro digitale ebbene questo apparecchio deve essere a carico del cittadino rimborsato dal sistema sanitario nazionale se ce ne sono tanti in commercio cosa facciamo? un bando regionale piuttosto che ognuno compra quello che desidera i vari spirometri mandano dei dati sono interoperabili questi dati? io posso ricevere da spirometri digitali tutti i dati nella piattaforma del mio ospedale? le complicazioni sono tante un'altra cosa poi è anche il discorso della conoscenza del paziente e del medico nel saperlo usare questo tipo di strumento quindi ci sono tanti processi che devono essere messi un po' in ordine di sicuro però dobbiamo pensare che la televisita non è una televisita se non si ha la possibilità di misurare i parametri del paziente attraverso un telemonitoraggio ok? altrimenti è una chiacchierata come quella che stiamo facendo adesso mi farete delle domande e darò delle risposte ma la televisita può essere utile solo in fase di revisione di alcuni esami a paziente noto e paziente stabile la telemedicina è diventata legge quindi adesso non ci sono più le raccomandazioni delle varie società scientifiche ci sono delle vere e proprie regole e banalmente vi dico il primo ostacolo che stiamo valutando come comunità scientifica cioè la nostra legge dice che affinché un assistito possa usufruire dei servizi di telemedicina implementati a livello regionale il paziente deve risultare leggibile dal punto di vista clinico tecnologico culturale di autonomia o disponibilità di un care bigger qualora necessario nella fruizione dei servizi di telemedicina ora io sono un medico sono un opneumologo credo di avere a 52 anni una certa esperienza a livello clinico posso anche lanciarmi in una valutazione clinica sulla capacità del mio paziente nel utilizzare la telemedicina non so valutare le sue capacità tecnologiche non ho il diritto e non ho le capacità per valutare il suo livello culturale per quanto riguarda la digital medicine quindi chi deve valutare queste cose come si fanno a valutare nessuno ci ha dato dei parametri poi dobbiamo mettere a disposizione del cittadino paziente e del medico un centro servizi che si occuperà di tutti quei compiti che sono tecnici come caricare sulla piattaforma agli esami come distribuire la rete darci una piattaforma renderla fruibile sia per il cittadino che per il medico e poi un centro erogatore l'ospedale che deve formare tutto il suo personale infermieri medici banalmente il centro di prenotazione per erogare questo tipo di servizi che sono tanti perché come vedete qua sono televisita quindi chiacchierata col paziente con possibilmente la possibilità di avere degli esami teleconsulto tra medico e medico telecooperazione sanitaria in generale telesalute teleassistenza e per tutte le malattie perché può essere rivolta a patologie acute cronica situazioni post acuzie quindi diciamo che la relazione le relazioni sono tante e le interazioni sono tante quindi ci vuole un sistema digitale molto molto ben strutturato e oltretutto ci deve essere quello del passaggio che ogni struttura deve ricevere l'autorizzazione a fornire questo tipo di servizio l'accreditamento quindi dimostrare di essere in grado anche tecnologicamente di supportare questo tipo di prestazione un accordo contrattuale tra l'ospedale la regione il sistema sanitario nazionale quindi i passaggi sono sono tanti essenzialmente però tutto è superabile può essere una questione di tempo può essere una questione di struttura all'inizio potrebbe esserci una distribuzione un po' a macchia di leopardo però abbiamo un grosso problema e cioè medical device perché come dicevo se io devo affidare il rilevamento dei parametri a dei medical device io devo essere sicura che questo rivelamento è efficace che la saturazione che il paziente sta rilevando in quel momento e che mi comunica deve essere assolutamente quella che potrei ottenere io in ospedale e registrare produrre un medical device costa tantissimo tempo costa tantissimi soldi e non tutte le aziende sono in grado di permettersi di fare questa cosa quindi noi troviamo in commercio tantissimi medical device che però non hanno la registrazione di medical device vengono spacciati per tali e se io utilizzo uno strumento che non è registrato all'EMA come medical device o anche poi dei risvolti diciamo legali su quella che è la mia responsabilità professionale e vi faccio un esempio per quanto riguarda le malattie respiratorie rare e non rare noi partiamo sempre dalla raccolta anamnestica ma poi arriviamo all'esame obiettivo e l'esame obiettivo essenzialmente è quello di ispezionare il torace di effettuare la palpazione la percussione e soprattutto l'auscultazione ora sono nati proprio con la fibrosi polmonare le interstiziopatie molti bluetooth con endo bluetooth che permettevano di fare anche degli screening di popolazione su questi suoni che suona velcro e sono molto tipici ma erano trial clinici quindi erano in via di sperimentazione al momento non abbiamo dei stetoscopi bluetooth che ci permettano registrati come medical device di effettuare questa procedura e io non posso affidarmi alla telemedicina e a quello che il paziente mi riferisce perché è molto soggettivo il sintomo della dispnea e voi sapete che quando un paziente cronico potrebbe sottovalutare i suoi sintomi potrebbe essere abituato a respirare male e quindi rispondermi che in realtà è stabile quando in realtà non lo è banalmente o esagerare in un sintomo che in realtà a livello obiettivo potrei non riscontrare tutti questi forse sono un ostacolo alla gestione della telemedicina in maniera appropriata in questo momento perché dobbiamo avere questo tipo di certificazione su questo tipo di device anche a livello di diciamo intermediario perché si è pensato forse non ci può essere magari il rapporto diretto ospedale territorio ma potremmo individuare delle figure come il medico di medicina generale che attraverso delle apparecchiature diagnostiche di primo livello possono comunicare agli ospedali determinati determinati dati bello c'è stato questo tavolo tecnico sulle apparecchiature di diagnostica di primo livello che sta ancora discutendo ma la discussione è ancora in atto perché parte dei medici avevano già acquistato attrezzature a titolo personale mettendole a disposizione in maniera generosa per il sistema sanitario nazionale ma non sono quelle che magari avrebbe scelto il sistema sanitario nazionale magari hanno delle interfacce digitali per cui non parlano con il fascicolo sanitario elettronico non possono essere controllati tutti gli studi medici quindi c'è ancora tanto lavoro da fare in questo senso un pochino più avanti perché hanno una federazione più efficiente più efficace invece sono le farmacie attraverso il decreto legge 137 del 2020 poi convertito si è ottenuto una bella rete territoriale di servizi nelle farmacie in cui determinati disposizioni ad esempio dispositivi ad esempio per la misurazione della pressione arteriosa piuttosto che l'ulter pressorio l'autosfirometria la saturazione la comunicazione dei dati dell'elettrocardiogramma per quanto riguarda la cardiologia ebbene qua c'è una certa uniformità i farmacisti sono responsabili dell'utilizzo e della manutenzione di questi dispositivi medici e in generale il livello qualitativo si è rivelato molto alto e molto molto utile soprattutto in quelle zone rurali dove magari è presente una farmacia ma non ci sono centri ospedalieri ora il remote monitoring quindi la possibilità di monitorare a distanza i nostri pazienti può accelerare anche la ricerca clinica può aumentare la cura e il carico di lavoro dell'ospedale e può essere anche utile per fare delle valutazioni identificare rischi ad esempio per quanto riguarda la salute pubblica per quanto riguarda la ricerca clinica però anche qui bisogna stare attenti perché ultimamente ci sono stati questi titoloni una famosa un famoso marchio di orologi all'interno degli studi clinici approvato ma questo non significa che questo è diventato un medical device significa appunto che c'è ricerca c'è ricerca nel senso che è stato inserito nel programma medical device development tools quindi è stato individuato questo apparecchio affinché attraverso un vari trial di ricerca clinica si valuti se potrebbe diventare un medical device dimostrando di avere quei requisiti che devono avere i medical device quindi in questo caso ad esempio si sta studiando l'effetto di rilevazione sulla fibrillazione atriale ma non è ancora un medical device quindi il titolo può essere molto sviante rispetto a quello che è la realtà abbiamo sentito poi parlare molto dei dispositivi indossabili di ultima generazione che sono gli anelli smart che possono valutare i livelli di ossigeno nel sangue la qualità del sonno quindi nelle patologie respiratorie insieme alla frequenza cardiaca potrebbero essere molto utili non sono medical device sono mezzi forse utili per valutare il proprio benessere ma non hanno la certificazione di medical device quindi un medico non potrà mai prendere in considerazione in maniera seria o prendere delle decisioni sulla base del risultato della valutazione ad esempio della qualità del sonno di un paziente basandosi su questo tipo di device però c'è anche tanto ottimismo nel senso che ad esempio il covid che è stato un acceleratore per quanto riguarda la ricerca digital perché eravamo tutti lontani l'uno dagli altri ci ha fatto capire che ad esempio il telefono le registrazioni delle voci delle tossi dei suoni polmonari poteva essere attraverso l'intelligenza artificiale analizzato per delle diagnosi precoci di infezione e allora quello che abbiamo fatto in Humanitas con Voicemed abbiamo pensato attraverso la loro tecnologia di utilizzare dei biomarcatori vocali applicandoli alla diagnosi dell'asma la voce veicola una vasta gamma di informazioni sulla salute perché coinvolge coordinazione di cervello di polmoni di vari muscoli anche respiratori la loro tecnologia Voicemed rivela segnali finissimi nei suoni prodotti dell'apparato vocale che vengono validati come biomarcatori vocali e c'è un rigoroso approccio scientifico e che cosa abbiamo fatto utilizzando un banale smartphone e scaricando l'app su uno smartphone quindi una tecnologie davvero minima abbiamo preso poi vi faccio vedere come la registrazione dei suoni respiratori erano alcuni colpi di tosse alcuni vocalizzi con la ripetizione di alcune vocali quindi qualcosa che può essere fatto al domicilio in maniera molto molto semplice abbiamo applicato degli algoritmi di intelligenza artificiale per intercettare pulire analizzare tutti i suoni e abbiamo ottenuto quelli che sono chiamati output cioè output cioè determinate frequenze sonore che potrebbero essere erano il nostro sogno era quello rappresentati dall'anscore quindi sinonimo di asma è quello che si è visto che l'85% dei dati viene colpito da questo algoritmo catturato e corrisponde a quella che è l'analisi della spirometria cioè quando una spirometria ci diceva che c'era ostruzione nell'85% dei casi anche il nostro algoritmo con l'intelligenza artificiale confermava e quindi una grande specificità considerando che siamo agli inizi che cosa abbiamo fatto quindi abbiamo sottoposto i nostri pazienti asmatici e non asmatici perché c'erano i controlli negativi che per un lungo periodo sono venuti a fare il test di broncocostruzione con metacolina in ospedale e tra una spirometria e l'altra dose dopo dose di somministrazione di metacolina chiedevamo di fare questi vocalizzi al telefono e quindi abbiamo raccolto tanti tanti dati e adesso partiranno altri lavori su altre patologie o su pazienti che invece non hanno patologie perché ci servono anche i controlli negativi ma i risultati sono molto molto promettenti ed è stato bello presentarli al congresso della società europea di allergologia immunologia clinica a Valencia qualche giorno fa utili anche come dicevamo per proprio la cura del paziente quindi passiamo stiamo già passando ma passeremo sempre più veloceamente da quella che è telemedicina a telemedicina digital quindi tutte quelle tecnologie che adesso utilizziamo per il benessere con tapassi l'app della dieta l'app del sonno riusciremo a applicarle anche a quelle che sono invece le malattie facendole diventare dei medical device e questo sarà utilissimo perché noi avremo la possibilità non di avere spot dei risultati la spirometria fatta a gennaio piuttosto che la radiografia del torace fatta a settembre e poi due anni dopo ma dei dati continui che ci permettono di studiare l'andamento di qualunque tipo di patologie in particolare quella respiratoria e voi sapete che l'andamento della patologia al trend di miglioramento peggioramento è fondamentale per quanto riguarda l'intercettazione del peggioramento poi che porta a un deterioramento della salute e della qualità della vita quindi immaginatevi di essere voi in grado di intercettare queste deviazioni dalla normalità in meglio in peggio di essere in grado di comunicarle tempestivamente al vostro medico ovviamente anche qui non dipende solo dal cittadino e non dipende solo dal sanitario ma ci deve essere un internet of medical things quindi IOMT con un case manager un centro servizi che ci permette di avere tutta la tecnologia a disposizione per raccogliere trasmettere analizzare questi dati ci si sta lavorando e ci si arriva a qualche paese un po' più avanti qualche paese un po' più indietro ma a livello europeo c'è molta condivisione molta condivisione anche perché sicuramente le varie criticità sono sollevate sempre dalla società scientifica e anche nei vari articoli quindi sicuramente questo è un argomento centrale quindi immaginatevi che passi da giganti sono stati fatti magari in cardiologia o in diabetologia per quanto riguarda i sensori arriveranno presto sicuramente anche a livello respiratorio vi faccio alcuni esempi quindi del telemonitoring per i pazienti respiratori essenzialmente il telemonitoraggio definizione è la trasmissione di dati fisiologici non invasivi lo scopo è quello di ridurre i ricoveri ospedalieri quindi intercettare ad esempio le risacerbazioni migliorare la cura di sé migliorare la qualità di vita correlata alla salute dei pazienti modificando in tempo reale diciamo ad esempio anche la terapia quindi consiste nel raccogliere attraverso dei sensori dei dati trasmetterli di solito il gateway e il cellulare ma può essere anche il computer permettere di raccogliere questi dati quindi avere uno storage dei dati e poi di fornirli al service center in maniera sincrona quello può essere valutato poi in base al tipo di patologia banalmente una patologia a rischio di arresto respiratorio improvviso deve essere in tempo reale una patologia invece che non è a rischio di arresto respiratorio improvviso può essere effettuata una volta alla settimana all'analisi piuttosto che una volta al giorno una volta al mese quello verrà valutato poi in base la patologia la clinica personalizzata del paziente e le tecnologie ci sono già perché alcuni smart noi non lo sappiamo ad esempio sono in grado di valutare l'umidità dell'aria che noi abbiamo intorno la pressione barometrica sono in grado attraverso gli accelerometri non solo di contare i passi ma di valutare i nostri movimenti con i giroscopi cioè fanno già tantissime cose che in realtà noi non utilizziamo e la maggior parte di queste cose sono praticamente gratis quindi la medicina digitale non costa sempre come può avvenire il telemonitoraggio può avvenire a spot e quindi la frequenza verrà valutata da medico e paziente una volta al giorno una volta alla settimana una volta al mese attraverso spirometri digitali che di solito sono collegati appunto a uno smartphone vari altri strumenti come l'oscillometria e il feno che misurano nel primo caso soprattutto la funzionalità delle piccole vie e nell'altro caso nel feno l'infiammazione delle vie aeree altri invece sono sistemi per il monitoraggio continuo della respirazione e possono essere sistemi che sono indossabili famosi wearables oppure sistemi che non sono indossabili per quanto riguarda i dispositivi indossabili abbiamo delle bande toraciche o delle maglie e delle t-shirt che ci permettono di effettuare esami di funzionalità respiratoria completi e quindi di darci tantissime informazioni sulla nostra capacità respiratoria in tempo reale oppure sistemi che non sono wearable ma ad esempio pensate che utilizza l'ossigenoterapia prima erogavano l'ossigeno punto e basta a volte non sapevamo neanche quanto ossigeno adesso siamo arrivati al punto che invece questi dispositivi possono calcolare la frequenza respiratoria attraverso sentori che rilevano la variazione delle pressioni nella linea di ossigeno oppure polisonnigrafi che possono essere utilizzati tutte le notti molto più comodi di quelli che utilizziamo normalmente per la diagnosi della sindrome della pneumostruttiva del sonno o la stessa ventilazione meccanica alcuni ventilatori domiciliari possono integrare un sistema di monitoraggio che ci permette di valutare la frequenza respiratoria naturale l'escursione del torace la frequenza cardia quindi di darci dati molto molto importanti non solo per quello che riguarda tecnicamente l'effetto della ventilazione o la tolleranza da parte del paziente della ventilazione ma in generale sulla sulla sua salute e qui quindi nasceranno tanti strumenti che sono piccoli facili da utilizzare ad esempio gli smart device adesso ne parleremo o questionari online che vengono in tempo reale analizzati qua poi ne parleremo anche più avanti molto importanti sono quelli che noi chiamiamo patient reported outcome cioè delle domande specifiche che riportano quelli che sono i risultati che il paziente sente sulla sua pelle che sempre di più hanno importanza perché sempre di più siamo in grado di fare la domanda giusta e di ottenere quindi delle risposte che ci danno un quadro di salute preciso per varie patologie questi sensori poi possono parlare una piattaforma web con il medico l'infermiere il centro di riferimento come vi dicevo i dati possono essere mandati in maniera sincrona immediati eletti immediatamente dal medico oppure periodicamente si possono caricare ad esempio degli alert quindi non possiamo magari controllare i dati di tutti i pazienti tutto il giorno tutti i giorni ma possiamo ricevere ad esempio un alert a fronte di una desaturazione o una frequenza di respirazione che noi tariamo come critica per quel particolare tipo di paziente o altri parametri gli studi come vedete stanno andando avanti questa è per me la nostra piattaforma per tutti gli studi pubblicati quindi come vedete rispetto alla fine degli anni 90 da adesso il numero di pubblicazioni è sempre più ampio ed è proprio richiesto questo interesse nel senso che ad esempio qui vedete la società di patologie respiratoria europea che ha fatto una call to action a tutti i medici affinché ci sia un'implementazione della digital health vari risultati dei centri italiani aggiornamenti continui su quelli che sono i digital scusate i digital tools sia per quanto riguarda le patologie allergiche che respiratorie in generale e i primi risultati ci sono perché ad esempio abbiamo degli strumenti che al momento sono ancora non in commercio sperimentali ma che hanno dimostrato in questo caso che attraverso la misurazione precisa della frequenza respiratoria dell'ossigenazione del sangue della frequenza cardiaca del picco di flusso e di altri dati di essere in grado dicevo di intercettare con 1-5 giorni di anticipo le riesacerbazioni nella bronchite cronico-ostruttiva quindi voi immaginate di non arrivare all'ultimo quando state veramente male a dover andare in ospedale o portare un vostro familiare in ospedale per una riesacerbazione ma di intercettarlo in 5 giorni prima essere in grado di comunicarlo al medico e iniziare la terapia immediatamente quindi un grande risvolto su quella che è l'ospedalizzazione che ha un costo permettetemi di dire sociale non solo economico ma dietro un paziente anziano ricoverato per qualunque tipo di patologia noi sappiamo che ci sono intere famiglie che bloccano la loro vita con risvolti sociali sui figli sul lavoro e quindi diventa veramente un impatto importante riuscire a intercettare 4-5 giorni prima l'arrivo di una riesacerbazione e quindi agire al domicilio sarebbe veramente un grandissimo risultato per tutti poi per le patologie respiratorie in generale noi sappiamo che la terapia inalatoria è un po' un punto critico questi sensori ce ne sono di tanti tipi sono in grado di valutare e correggere l'aderenza ora permettetemi di dire che questo è uno studio come vedete molto complicato tre braccia quindi diciamo fatto come faremmo per un farmaco qualunque non per un device quello che si è visto è che in generale l'utilizzo di questo smart device di questo sensore permette una migliore aderenza ma per aderenza noi non intendiamo solo il fatto che venga assunta la dose ma venga assunta nella maniera giusta perché noi sappiamo che ci sono tanti errori critici nell'assunzione della terapia che non c'entrano niente con la volontà del paziente di curarsi ma c'entrano magari invece con la difficoltà di utilizzo c'entrano ad esempio col fatto che magari il medico prescrive il device sbagliato per quella persona perché a livello di comorbidità piuttosto che di di gradimento quel device non è adatto pensate ad esempio agli spray bronchiali prescritti a una persona con delle problematiche di coordinazione piuttosto che di forza a livello delle mani non sarà in grado di farlo e quello non c'entra assolutamente nulla con la sua capacità e la sua voglia di curarsi o di assumere la terapia inalatoria intercettando gli errori critici quindi non solo le dose erogate ma che cosa sbaglia e correggendolo prima di tutto aiuta il paziente che è in grado di farlo a tenere ad esempio nella posizione giusta device rispetto all'assunzione oppure di fornire al paziente al medico i dati giusti per capire che ha sbagliato nel prescrivere quel particolare device in generale ad esempio per quanto riguarda le patologie intestiziali si è visto che ci sono tantissimi sensori che possono essere utilizzati che misurano anche qua il rismo respiratorio la qualità di tosse anche qui attraverso la registrazione attraverso il telefono l'utilizzo delle terapie al bisogno la valutazione dell'ossigeno l'attività fisica ce ne sono tantissime ma a livello internazionale qua c'erano 207 grandi centri che rispondevano in 23 paesi del mondo diversi quindi ripeto non stiamo parlando di Italia solo quello che si è visto è che solo una minoranza dei clinici utilizza la telemedicina anche se tutti apprezzano molto l'idea di effettuare la telemedicina con determinati tipi di barriera che però sono quelli che abbiamo già visto e che vedremo anche più avanti per l'implementazione anche perché ripeto parliamo tanto di questi digital device se noi andiamo su Tech2Doc che è la piattaforma dell'INPAM ufficiale per quello che è la digital medicine e andiamo nella mappa delle soluzioni questo è accessibile ai medici quindi dovrebbero esserci le ultime soluzioni se io vado a selezionare il device che servono per la medicina digitale respiratoria e vado a cercare nelle oltre 100 immagini che compaiono quelli che sono registrati con marchio CE l'unica che compare è questa e cioè una t-shirt che è in grado di darci vari parametri dall'elettrocardiogramma all'analisi del respiro in pratica è come essere dentro una cabina pletismografica sempre meravigliosamente utile registrato con medical device quindi assolutamente affidabile non so quanto possa essere vivibile da un paziente forse per brevi periodi di tempo magari dopo il ricovero ospedaliero o nelle fasi in cui bisogna cambiare terapie quindi è necessario un particolare monitoraggio magari sì a dormire con una maglietta così o vivere con una maglietta di questo tipo poi magari nella discussione abbiamo tempo non credo che sia fattibile in generale alcune bande forse sono un po' meno quello che abbiamo fatto noi ad esempio è stato pensare a non farvi venire in ospedale ma darvi il misuratore del per il feno a casa che cosa vuol dire quello strumento che tanti hanno imparato a conoscere che è questo in cui si soffia in maniera più o meno semplice e analizza quella che è il livello di infiammazione quindi l'ossido nitrico esalato dagli osinofili che sono quelle cellule responsabili in gran parte dell'infiammazione polmonare per quanto riguarda sia l'asma che adesso si è scoperto anche la bronchite cronica ostruttiva l'abbiamo dato a casa dei pazienti in autogestione che cosa abbiamo visto che è molto molto utile è molto utile perché ad esempio qua vi ho fatto alcuni casi in questo caso dopo un utilizzo per quanto riguarda l'asma grave dopo l'inizio di una terapia con il biologico si è visto al crollo del feno su valori normali in questo caso c'erano altalenanti risultati quindi abbiamo deciso di rimodulare la terapia inalatoria in questo caso è stato utilissimo perché perché la persona era una donna se ricordo bene quando veniva in visita aveva sempre dei livelli di feno molto molto bassi e questo ci bloccava secondo piano terapeutico dalla prescrizione del biologico a fronte però di risocerbazioni severe che aveva al domicilio ma tutte le volte che veniva non riuscivamo a intercettare dei valori alti che ci permettessero di prescrivere questo tipo di biologico facendolo al domicilio si è visto che raggiungeva dei livelli quasi a livello di 100 parti per milioni quindi questo ci ha permesso di poter prescrivere il trattamento in serenità non solo a livello normativo ma anche sicuri che l'infiammazione fosse osinofilica e quindi il farmaco biologico potesse agire potesse fare effetto quindi può essere anche l'espressione di una medicina personalizzata che può non essere data per forza a tutti quei pazienti ma a quei pazienti che hanno bisogno di essere monitorati da vicino e sicuramente andremo avanti non soltanto per l'asma ma anche in altre patologie un altro esempio è questo di My Air Coach che è semplicemente un programma di autogestione l'obiettivo era quello di valutare proprio l'efficacia di questa tecnologia quindi è stato fatto un vero e proprio trial la tecnologia consiste in un adattatore per inalatore un monitor della qualità dell'aria interna della casa un rilevatore dell'attività fisica della persona uno spirometro portale un dispositivo di misurazione dell'ossido nitrico tutto che concluisce in un'app e che fornesce i dati e quello che si è visto è che nel momento in cui viene utilizzato My Air Coach il paziente determina i cambiamenti nelle sue abitudini di vita o comunica al medico i dati e quindi viene modificato la terapia in tempo reale si ha un totale miglioramento del controllo dell'asma e della qualità di vita del paziente riferita dal paziente una riduzione significativa delle riacutizzazioni dell'asma e quindi ha un impatto vero su quella che è il controllo di malattia e tutto questo a livello digitale quindi anche qui andremo a registrare andremo come una comunità scientifica ecco non noi ma a registrare questo tipo di applicazioni perché si è visto che funzionano e lo sviluppo deve essere in questo senso come un farmaco come un trial clinico qualunque l'ultima cosa in mano a voi sarà quella degli studi epidemiologici o della capacità di individuare i biomarker digitali che cosa si è visto si è visto che attraverso delle app che erano state pensate in questo caso mascher per l'arinite inserendo determinate questionari dei pazienti con delle domande mirate dei questionari standardizzati abbiamo avuto il piacere di individuare attraverso il real world direct patient data study con la collaborazione di migliaia di pazienti attraverso questo diario elettronico uno score che ci permettesse considerate che sono stati studiati oltre 135 mila giorni di 1662 utilizzatori in tutto il mondo quindi tantissimi dati che più volte al giorno si sono prestati a fare questi questionari proprio per riuscire a darci tanti dati da validare e questo questionario ci ha permesso di intercettare quelli che erano i punteggi critici e quindi di intervenire attraverso un alert nella correzione immediata di un'abitudine di vita piuttosto che della terapia da modificare personalizzandola su quello che erano le esigenze della persona e questi studi andranno avanti questi studi sono nati dai pazienti sono nati essenzialmente dall'associazione di pazienti francese che ha detto ma perché non utilizziamo quest'app anche per l'asma visto che per la rinite sta funzionando e quindi questi saranno i biomarker digitali abbiamo sviluppato anche altri dati sulla specificità dei sintomi abbiamo recentemente pubblicato che un certo tipo di disfria descritto in un certo modo dai pazienti è un biomarker digitale di risacerbazione ad esempio quindi verrà dal paziente l'aiuto in questo caso e sarà fondamentale sarà fondamentale perché sarà poco costoso sarà democratico perché tutti bene o male abbiamo un cellulare e un'app da scaricare gratuitamente non è invasivo ma ci permetterà di effettuare una medicina di territorio molto molto più più ampia e il segreto sarà proprio quello dei patient reported outcome measure cioè misurare quello che voi dite al medico quelli che sono i risultati gli outcome che voi riportate a seguito di una di un'azione medica questo è è la prospettiva da parte vostra dei pazienti che poi vostra insomma anche sono paziente per altre patologie ma questa è l'idea che le persone hanno della digital health con degli elementi facilitatori che sono sicuramente il fatto del patient empowerment cioè prendo possesso e consapevolezza di quello che è il mio stato di salute posso imparare a gestire da solo e non avere sempre l'ansia di non avere il medico a disposizione o l'infermiere ma se ora ho in grado di gestire determinate criticità magari non tutte ma gran parte personalizzare la mia cura pretendere la personalizzazione della mia cura non tutte le cure vanno bene per tutte con delle soluzioni patient driven cioè guidate dal paziente stesso ovviamente le barriere come dicevamo sono quelle della capacità di conoscenza di gestione della informazione digitale dei mezzi digitali degli apparecchi digitali e poi tutto quello che è anche un problema di privacy di intercomunicabilità dei dati e di appartenenza dei dati questo sicuramente oltre che ovviamente i costi di questi strumenti che poi dovranno essere regolamentati per ogni sistema sanitario nazionale io ringrazio tutta la mia unità operativa senza la quale sarei assolutamente persa ma anche tutte le associazioni tutti i registri di patologia perché fondamentalmente attraverso i dati raccolti della collaborazione di tutti i medici non solo italiani europei mondiali che riusciamo a andare avanti anche in questa direzione e ringrazio voi per avermi accolto questa sera grazie mille dottoressa Pugioni una relazione veramente bellissima che è approfondita ma più fluibile in modo anche molto accattivante diciamo così allora lasciamo io ho due già due domande che sono arrivate erano arrivate già questa settimana ma chiedo se qualcuno dei presenti vuole fare una domanda può accendere il microfono e farla direttamente oppure scrivere in chat la sua domanda allora in parte lei ha già anche risposto ma ovviamente le persone che ci hanno scritto non avevano potuto sentire la sua relazione ve le pongo comunque e la prima domanda è esiste un dispositivo capace di rilevare precocemente una riacutizzazione respiratoria e quindi che agevoli il passaggio di questo dato dalla persona al medico che poi dovrà prendere una decisione questa è la prima domanda sia a livello sperimentale non ancora in commercio sono state sperimentate con risultati ottimi per la bronchite cronico-ostruttiva per lo scompenso cardiaco legato alle patologie respiratorie si stava lavorando molto sulle intestiziopatie e le fibrosi un po' meno sull'asma perché sono molto improvvise le riservazioni però purtroppo non sono ancora in commercio perché appunto devono essere validati come dispositivi medici poi una seconda domanda che un po' potrebbe essere correlata alla prima è come mai secondo lei ci sono ancora così pochi strumenti digitali per il follow up delle persone con patologie già respiratoria visti tantissimi fondi messi a disposizione dal PNRR in questo senso perché i fondi del PNRR non vanno essenzialmente alle start-up dei nerd che creano questi dispositivi digitali e cioè le start-up di bioingegneria che collaborano con medici con centri di ricerca in tutto il mondo possono ricevere parte dei fondi statali europei poi che sia il PNRR piuttosto che il bando europeo ha poca importanza comunque ci sono dei fondi pubblici che queste start-up e questi centri di ricerca possono utilizzare che poi si chiamino Humanitas come il mio ospedale piuttosto che Policlinico piuttosto che una start-up esterna poi però c'è il problema e questi soldi possono essere utilizzati come abbiamo fatto noi con Voicemail per iniziare a fare uno studio pilota poi però queste tecnologie hanno bisogno di migliaia e migliaia di test così come un qualunque farmaco che deve essere testato su migliaia e migliaia di persone questo costa tantissimo e non c'è dietro una grande società una multinazionale del farmaco spesso non si hanno i fondi di conseguenza rimangono delle bellissime idee che o vengono acquistate dalle multinazionali ma in questo momento le multinazionali o i grandi fondi pensiamo ad esempio i fondi di bancari che tante volte intervengono anche nello sviluppo delle tecnologie non li ritengono un mercato affidabile in questo momento quindi non c'è l'investimento per poterle distribuire perché pensiamo ad esempio a patologie respiratorie se noi avessimo qualcosa che abbiamo dimostrato scientificamente che è valido ma ci serve validarlo su grandi numeri io sono sicura che probabilmente una call to action attraverso le associazioni dei pazienti su tecnologie così semplici come ad esempio fare dei vocalizi al telefono riusciremo a ottenerle la partecipazione dei pazienti non sarebbe così difficile ma dovremmo darvi queste tecnologie e questa è la difficoltà questa è la difficoltà capiamo poi c'è da dire che la stragrande maggioranza dei fondi del PNRR sono stati destinati a diciamo così a modernizzare rendere più moderni tutto l'appartamento digitale computer informatico e computer dei computer del nostro servizio sanitario nazionale con tantissime cose cioè banalmente considerate una cosa ci sono tantissimi ospedali che nel momento in cui il paziente fa un esame radiologico se il medico non è lì a vedere l'esame radiologico ma è nella palazzina di fianco non riesce ancora adesso a vederlo quindi è fondamentale mettere in rete questo esame affinché chiunque lo vedesse perché se io sono a fare una consulenza da un'altra parte devo poter vedere l'esame del paziente quindi questo aveva sicuramente la priorità e ha la priorità rispetto a tante cose poi come vi ho detto per tecnologia digitale ci sono anche ad esempio dei software per gli esami radiologici tomografici pensiamo ad esempio alle intestiziopatie la diagnosi è tra virgolette quasi solo radiologica quindi il software che devono analizzare o la capacità di risoluzione di quei macchinari attraverso i software è fondamentale e quindi è sacrosanto avere degli apparecchi diagnostici che ci permettano una diagnosi accurata anche quella è medicina digitale certo allora abbiamo una domanda da Angela nella chat esiste chiede se esiste un'applicazione che evidenti la presenza di anidride carbonica nel sangue senza sempre fare l'emogaz analisi che effettivamente è un esamino un po' fastidiosetto ecco diciamo così allora esistono degli apparecchi sperimentali che la misurano sulla espirazione cioè sull'aria che noi esaliamo non sono ancora in commercio e a volte anche neanche in ospedale alcuni ventilatori ora in ospedale ce l'hanno sono ventilatori molto costosi ma che ci permettono di evitare nei pazienti ventilati sia coscienti che incoscienti di misurare la frazione di di anidride carbonica esalata ma solo in quel caso lì in questo momento allora diciamo che possiamo continuare a nutrire la speranza che presto arrivi questa strumentazione che ci consentirà di non fare l'emogaz analisi ma ha ragione ha ragione è molto dolorosa digitale che lo sostituisca ci sono se ci sono altre domande aspettate che mi fa che c'è no già a questa domanda abbiamo già dato una risposta eh Angela ringrazia ci sono altre domande per la dottoressa Pugioni altrimenti la ringraziamo per questa sua grande disponibilità e questa sua competenza che ha messo a disposizione e vi salutiamo eh per settembre quando ci sarà il nono webinar di questo progetto abbiamo ancora 30 secondi no non vedo domande quindi dottoressa Pugioni la ringrazio tantissimo grazie a voi aspetti anche forse è arrivata un'altra domanda no non è arrivata sembrava un'altra domanda invece no sono i ringraziamenti di Angela e niente la ringraziamo tantissimo per il tempo che ci ha dedicato e per questa grande competenza che ci ha messo a disposizione rispondo ad Angela la sì è possibile avere le slide e anche la registrazione di questo webinar chi di voi si è registrato alla piattaforma che quindi ha consentito l'accesso al webinar riceverà direttamente nella propria mail un link per rivedere sia il webinar sia scaricare le slide che dateci qualche giorno perché la dottoressa Pugioni ce le deve girare e noi le dobbiamo mettere in piattaforma quindi sì è possibile sia rivedere il webinar sia avere le slide quindi dottoressa la ringraziamo tantissimo buona serata e a settembre per il prossimo webinar arrivederci a rivedere a rivedere a rivedere